e ciao a you e ben ritrovati sul canale di neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis signori meno 2 a juventus napoli come giocherà il napoli a netto degli infortuni e del caso covid ragazzi luciano spalletti ha già deciso la formazione a parte è fatta praticamente da sé la formazione del napoli contro la juventus a torino si giocherà giovedì per il giorno della befana e speriamo di portargli tante caramelle alla vecchia signora detto questo andiamo a vedere un po' come potrebbe essere una probabile formazione secondo me poi ci sta che non sia questa la formazione ma sia un'altra formazione perché lo sappiamo ci sono vari rientri dal covid e dai presunti casi covid perché petagna e malquitta erano stati a contatto con diversi positivi petagna è già il risultato negativo al tampone e quindi petagna è arruolabile per la partita contro la juventus detto questo in porta ragazzi ci va il padron o spina perché vai chi metti meret no dai continuità d'ospina sta facendo un buonissimo campionato anche se deve migliorare sugli calci d'angolo perché nel sul primo palo calo davide devi mettere l'uomo sul primo palo quando lo capirà e sarà sempre troppo tardi poi linea 4 difensiva con di lorenzo racmani one jesus e gulam ragazzi perché come sappiamo malquitta non è ancora risultato negativo al tampone forse non è stato ancora fatto il tampone a malquitta quindi gulam dovrebbe partire titolare l'ultima partita giocata da titolare da gulam ragazzi è del 7 marzo 2021 e finora ha collezionato solo 14 minuti in campionato ragazzi una cosa allucinante ma se malquitta anche malquitta aveva giocato solo 7 minuti in campionato salvo poi fare l'esordio in campionato facendo una sontuosissima partita ragazzi speriamo di vedere anche questa sontuosità nei piedi di gulam e nelle gambe di gulam ragazzi perché gulam fino a 3 4 stagioni fa era il terzino se non il terzino più forte in italia e molto probabilmente uno fra i top 3 in europa nell'era di sarri ragazzi quindi gulam è comunque un valore aggiunto anzi forse gulam è l'unico che ci ha messo veramente la faccia sulla sconfitta con lo spezia che è andato davanti alle telecamere ha detto ragazzi la squadra è questa lo sappiamo i giocatori sono gli stessi ma facciamo sempre gli stessi errori sempre gli stessi errori individuali abbiamo paura di giocarci la partita e gulam ragazzi lo sappiamo come detto è un valore aggiunto per lo spogliatoio e se se ritorna il vero gulam anche al 50 per cento di quello che era con sarri mario lui il campo lo vede col binocolo secondo me quindi diamo continuità a fausì caro spalletti perché fausì è un giocatore che merita rispetto secondo me e quindi facciamolo giocare di più anche nella lista europa league non è stato potuto non è stato potuto non si è potuto inserire nella lista europa league per via dei tanti giocatori buttiamoci mal qui scusatemi buttiamoci gulam anche in questa lista europa league perché sarà fondamentale ragazzi avvenne un ricambio in più a mario lui certamente ma qui sta giocando benissimo e lo conferma anche luciano spalletti che lo fa anche entrare a partita in corso però ragazzi diamo continuità a gulam ve ne prego poi in mediana ragazzi c'è demme e lobotka quindi scelte obbligate per luciano spalletti perché fabian ruiz non gioca dal primo di dicembre partita 2 a 2 pareggiata con il sassuolo quella fu la partita della discesa dei giocatori del napoli perché lì abbiamo perso da lì a poco abbiamo perso praticamente mezza squadra e quando perdi mezza squadra ragazzi può essere pure il barcellona il real madrid il bayern monaco quando vai sui campi delle altre squadre è normale che le altre squadre dicono vabbè queste stanno mezza squadra fuori ce la possiamo giocare e così è stato per tutto il resto della stagione da metà stagione in poi il napoli ha faticato proprio per questo motivo da quella maledetto primo dicembre ragazzi il napoli è andato in fase calantissima va bene salvo poi riprendersi con la vittoria del milan ma perdendo poi con altre squadre sia empoli e spezia due fra tutte e fabian ruiz ragazzi è reduce dal covid perché anche il buon fabian ruiz ha preso il covid in nel periodo natalizio sì nel periodo natalizio poco dopo dopo poco scusatemi dopo il 25 di dicembre risultato positivo al tampone dobbiamo vedere lo stato di forma parte l'ha avuto tre o quattro giorni quindi non è nemmeno da dire ha avuto gravi sintomi perché poi era asintomatico il ragazzo quindi staremo a vedere non penso lo rischi dal primo minuto perché sarebbe ingenuo secondo me da parte di luciano spalletti buttarlo subito nella mischia poi le scelte le fa lui io vi sto dicendo una mia probabile formazione anti juventus al netto dei giocatori a disposizione di luciano spalletti poi linea offensiva a tre con politano zilischi ed insigne insigne però uscito nelle ultime ore è da valutare perché anche lui reduce dal covid trattative toronto che poi ha accettato ragazzi insigne quindi secondo me la testa è già altrove va bene però come dicono è da monitorare lorenzo insigne si guarderà nelle prossime sedute di allenamento perché non sappiamo sia ancora recuperato al cento per cento allora mo mo perché poi uno poi si deve non si deve incazzare però il bondolo era insigne non gioca da due mesi a questa parte nel napoli perché ragazzi dite quello che vi pare dite quello che vi pare insigne colpa del presidente colpe va benissimo dite quello che vi pare però ragazzi non mi venite a dire che insigne in questo momento sta aiutando il napoli perché quando poteva giocare non ha giocato quando doveva dare il cento per cento non ha dato il cento per cento e ora che sai che la squadra è in difficoltà perché annetto degli assenze della coppa d'africa del del covid e dei contatti stretti con il covid tu sei il capitano fino fino a che non sarei venduto a toronto tu sei il capitano di questa squadra e va in campo va bene anche con se ti fa male un pochino il ginocchio tu vai in campo perché in terza categoria nei campi di terza categoria gente con la febbre a 40 giocava a calcio gente con con il rene di fuori con i sacchetti della coppa che lo mantenevano giocava a calcio tu che prendi 4 5 4,5 milioni a stagione non mi ricordo e non mi interessa perché tanto una ne andrà a pigliare 12 a stagione entra in campo e ti fai l'ultimo juventus napoli e segni e se segni forse qualcosa ti fai perdonare pure però lo sappiamo il calcio non è per gli amanti di questo sport perché ragazzi il calcio oramai sta andando alla rovina in segni andrà al toronto ragazzi è in canada lo so che il toronto è in canada però il campionato è nord americano quindi è la mls ben america a giocare diciamoci la verità quindi caro lorenzo passati la mano sulla coscienza e di voglio giocare l'ultimo juventus napoli fatemi giocare poi detto questo in attacco ragazzi giocherà l'unica punta abbiamo a disposizione edris mertens però petagna come già detto è guarito dal covid che poi non era covid era solo quarantena precauzionale ragazzi quindi petagna non ha avuto nessun caso di covid nessun sintomo covid è nelle gerarchie secondo me più avanti rispetto a petagna perché si è allenato di più rispetto a petagna però però lo sappiamo luciano spalletti gli piace stravolgere un pochino le carte perché poi la juventus in difesa non ha né chiellini né bonucci va bene quindi non so quale sia la loro formazione titolare o la probabile formazione quindi staremo a vedere forse la velocità di ris potrebbe influire contro la difesa juventina c'è da dire pure che se insigne non è al 100% mertens potrebbe scalare nel suo ruolo naturale perché ragazzi mertens nasce come esterno quindi mertens potrebbe ritornare come esterno alto va benissimo poi hai anche l'opzione petagna in attacco e ragazzi c'è petagna fai giocare petagna e mertens lo sposti laterale va bene poi ci potrebbe essere anche un cambio di modulo un 4 4 2 però la vedo difficile però tutto sta al recupero dei giocatori come recupera famian ruiz come recupera scusatemi come recupera insigne come recupera petagna come potrebbe recuperare mal quit perché ragazzi a qualora con il 4 4 2 tu mal quit lo puoi mettere anche esterno alto va bene per far riposare insigne oppure in un insigne mertens prime punte per non rischiare petagna ora staremo a vedere quindi detto questo ragazzi la probabile formazione secondo me è questa qui 4 2 3 1 classico con ospina fra i pali di lorenzo racmani e one jesus con gulam nel quartetto difensivo poi come già detto vediamo mal quit come recupera e poi si andrà a vedere poi linea mediana con dem e lobotica per forza perché anche sa non abbiamo quindi fabiano è risultato è da poco ritornato causa covid quindi per me la mediana è questa qui dem e lobotica che secondo me faranno benissimo perché ragazzi lobotica è un giocatore ritrovato va bene e quindi insieme a dem possono dare quella marcia in più al centrocampo quindi dem andrà ad impostare il gioco lobotica più in fase difensiva poi linea a tre lì davanti con politano perché il buono lozano è ancora positivo al covid solo lui ha preso questo covid che non guarisce più con zelischi ragazzi zelischi che finalmente dovrebbe fare questo cavolo di salto di qualità lo farà non si sa tutte le stagioni sono buone per fare il salto di qualità arriva a metà stagione anzi prima di metà stagione ed in zelischi se ne perdono le tracce speriamo che con la juventus quando ha giocato il big match ha sempre fatto partitoni e quindi spero anzi mi aggrappa questa cosa del big match per poter vederlo finalmente fare questo salto di qualità insigne ragazzi a completare quel riparto offensivo poi sarà da valutare come riportano tutti i siti napoletani con mertens prima punta mertens che come già detto potrebbe andare a ricoprire il posto di lorenzo insigne e con andrea petagna titolare questa secondo me è la probabile formazione che schiererà luciano spalletti contro la juventus ragazzi e niente questo era questo era il video di oggi io vi ricordo di iscrivervi al canale di napolis 1926 che è gratis ragazzi l'obiettivo va bene penso di non arrivare ai 5000 iscritti ma arriviamo prima ai 3000 iscritti e poi staremo a vedere sempre comunque forza a napoli non lo posso fare perché non sono in sala e non sono con le maglie appese sempre comunque forza napoli dal vostro napolis 1926 ciao a you